Una donna di 50 anni è rimasta ustionata al volto in un'azienda di Morimondo ed è stata trasportata in ospedale. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 11 in un'azienda del piccolo comune dell'Abiatense lungo la strada provinciale 183. La donna ha subito delle ustioni al volto e agli arti superiori per cause ancora da chiarire sul posto. È arrivata un'ambulanza e un'automedica oltre ai tecnici di ATS e della polizia locale. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Un caso che segue un altro caso di incidente sul lavoro è avvenuto nel piccolo comune dell'Abiatense nel mese di maggio. In quell'occasione due mesi fa un uomo di 40 anni aveva subito un trauma toracico a causa dell'impatto con un gancio pesante in movimento all'interno dell'azienda in cui stava lavorando. Grazie.